Siamo da Giù Cristo, buongiorno. Oggi è giovedì 15 giugno. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Gli avversari e nemici sono essi a cadere. Nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci i propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul cuore dei figli di Israele, ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, in credoli, il Dio di questo mondo ha ceccato la mente, perché non vedono lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi, infatti, non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù, Signore, quanto noi siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio, che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Parola di Dio Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore e gli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affacerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui. I Suoi passi tracceranno il cammino. Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli iscrivi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, dovrà essere sottoposto al Sinedro. Chi gli dice pazzo, sarà destinato al fuoco della Genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lasciali il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice la guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi bene di cadini potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene. Grazie a tutti. - Grazie.